Dopo l'esordio positivo in un Ipo Sai Cup, bene anche la prima di campionato per l'Equipe Orizzonte. All'esordio in Serie A1 femminile, infatti, la squadra del coach Martina Miceli ha la meglio sul rapallo pallannuoto. Una partita che, sin dalle prime battute, è di conduzione etnea. Le tre di Catanesi, infatti, conquistano il primo dei quattro parziali con il risultato di 4-2. Nel secondo tempo, le Liguri provano a racciuffare il match e danno del filo da torcere alla squadra catanese, che comunque riesce lo stesso ad avere la meglio. Finirà, infatti, 2-1 per l'orizzonte. Ma è il terzo tempo quello decisivo, quello che chiude definitivamente i conti. Infatti, Capitan Di Mario e compagne concludono il parziale con un sonoro 7-2 che ipoteca di fatto la vittoria. Per la rapallo pallannuoto non resta che la magra consolazione di aver quantomeno concluso il quarto ed ultimo tempo in vantaggio per 2-1. Il risultato finale è dunque di 16-9 per le ragazze di Miceli, che nel finale si è detta contenta. La nota più lieta di giornata è però l'esordio della canadese Monica Eggens, che risulta subito decisiva. E infatti lei è la top scorer di giornata, con ben 5 gol realizzati. Le alte marcature portano la firma di Roberta Grillo, con 3 gol per lei, Arianna Garibotti e Claudia Marletta, con 2 marcature, ed infine una testa per Tania Di Mario, Valeria Marletta, Isabella Riccioli e Sofia Lombardo. Grazie. 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 Grazie.